Allora, complimenti a tutti! Sindaco, un'opera che era molto attesa dalla cittadinanza ed è stata effettivamente già molto apprezzata. Sì, un'opera bellissima, ormai tanti anni l'amministrazione porta avanti quello che è una politica nell'andare a favorire quella che poi è la mobilità lenta. L'abbiamo fatto riscoprendo tante strade vicinali, in questo momento questa è una strada nel fulcro del nostro territorio che collega Pievaltoppo con il nostro polo scolastico, quindi una pista ciclabile di un chilometro, una pista ciclabile innovativa, ecosostenibile in quanto è realizzata con pavimento drenante, illuminata da pannelli solari fotovoltaici, quindi una pista ciclabile che guarda il futuro per tutti, per i giovani, per gli anziani e per i ragazzi. Che impegno è stato anche economico per la mese? Ma è stato un impegno importante, abbiamo partecipato ad un bando nazionale, un mutuo agevolato, l'abbiamo vinto e quindi è un impegno, un importo complessivo di più di 350 mila euro. Il tema è sempre quello che appunto le piste ciclabili non ce n'è abbastanza, non sono collegate, da qui si partirà per qualche altro progetto? Ma sicuramente, questa sperimentazione che abbiamo fatto qua di andare a realizzare questa pista staccata poi da quella che è la sede viaria, quindi autonoma, è un'idea che abbiamo intenzione di riproporla in altre parti del nostro territorio. E questo insomma aggiunge anche tanta sicurezza che vuole percorrere comunque la nostra bella Valdichiana appunto con la mobilità lenta. Ma certamente, dà un'altra sensazione, un'altra sensazione di spostamento, più in sicurezza, più in tranquillità e anche andando a vedere quelle che sono poi le bellezze del nostro paesaggio.